Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo su Escape the... Ragazzi, io so che questo gioco fa molta paura. Nient'altro, non so nient'altro. Ah, un'altra cosa la so. Il mostro ci può sentire. Infatti, se vediamo nelle istruzioni, he can hear you. Literally. Lui ci può sentire proprio tramite il microfono. E niente, dobbiamo cercare di scappare. Iniziamo. Dove sono? Cos'è questo posto? Ho bisogno di trovare una via d'uscita, una torcia, bla bla bla, ok. Ok, siamo partiti così. Voglio fare giusto un test, raga. Aspettate che... Ah, si è abbassato in automatico, quindi mi posso riparare sotto al tavolo. Ora provo, raga. Ayuoki. Ayuoki, vieni a prendermi. Ayuoki. Ayuoki. Ayuoki, sono qui, vieni a... Raga, non arriva. Secondo me, magari non è ancora iniziato del tutto il... La sua caccia. Raga, ogni tanto sento delle voci. Mettono un'inquietudine. Serve una chiave. Questa. Ok, si apre. E io che chiudiamo... Magari ci può sentire. Che è successo? Ah, se calpesto queste buste fa rumore. Ok. Chiuso. Vadoo, che cacchio di vermi. Vadoo, raga. Un pentagono. Raga. Ho raccolto una lancetta. Secondo me... Ecco. Che devo fare? Ecco ne un altro. Raga. Raga. Che era quella musica? Ma sto... Sto sicuro... Allora può... Può arrivare fino a qui. Ecco. Mi senti allora? Mi senti, mi senti. Aiwoki. Mi senti, mi senti? Aiwoki. Ma sto bene qui sotto, no? Ma dov'è? Scomparso. Ma posso andare? Raga, io lo sento ancora. Secondo me, mettendo l'orario giusto in quell'orologio... Non so, mi darà qualche... Chiave. Magari di quella porta di prima. Oh mio Dio, quanto è brutto. Raga, ma è impossibile. Non posso andare vicino a quell'orologio perché è troppo facile che viene qua. Ci provo? Raga, posso fare un commentario su quanto è bello questo tavolino? L'avete visto? Ho provato a muovermi e appena l'ho fatto e stava arrivando. E' cacchio, eh? Madonna. Spegni, spegni. L'ora arriva qua. Eccolo. Raga, ma comunque ho controllato. Non mi ha dato nessuna chiave. Cosa ho sbloccato? Sì, sto parlando dal mio posto preferito. No. Ma mica viene ora qua pure. Raga, mette un'ansia addosso questo gioco. Raga, si è aperta questa porta. Cos'è? Sento delle voci. Apriamo la porta rossa. Serve una chiave. Raga, ma queste voci stanno sussurrando dei numeri. 3, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 4, 1, 5. Saranno queste porte? Devo aprire le forze in ordine. Ma ora come sono numerate? Allora, magari la terza è questa. Devo aprirla o chiuderla? Penso chiuderla. Questa? Ah, perché sarà... 2, 4, 1... Perfetto. Che è successo? Chiudi, chiudi. Ma io mi chiedo, può ancora arrivare qui la Yuwoki? Ah, una chiave? Una chiave per cosa ora? Quella porta che... Anzi, apriva? Sì. Una porta. Coriandoli? Raga, ma ho finito il gioco. Di già. Ah, sarà lo sviluppatore, allora. Sta ringraziando tutti quelli che hanno scaricato il gioco. Ma è impossibile per chi si procedeva anche in un altro corridoio. Vi prego, non mi dite che stanno altre cose da scoprire. Corri, corri. Tutto sotto al tavolo, vai. Ok, ora posso parlare. Aspettate, raga. Quindi ragioniamo un attimo. Ho sbloccato quell'orologio. Quella porta che mi ha fatto entrare. In un'altra porta. Ho trovato una chiave. Ho sbloccato un'altra porta e è finito il gioco. Allora, io ho già notato. Sotto quel divano si va in un altro corridoio. E qui a destra è il corridoio da dove viene lui solitamente, la Yuoki. Oh, oh, oh. L'ho nominato e sei un attimo incazzato. Quindi che devo fa? Dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è? Buongiorno. Raga! Raga! Oddio! No, no, no. Ti prego. Lì c'è una porta. Ma se cammino sulla ringhiera mi puoi prendere? Ti... Velocemente sotto il tavolo. Ok, primo step andato. Raga! No, no! Fammi salire! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Stavo pure per cadere, eh. Ti prego, no, ti prego, no, ti prego. Ti prego, no. No! Ah, è finito. Mi ha ucciso la Yuoki, mi ha ucciso la caduta. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video, magari su giochi horror come questo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!